A che prodotti siete arrivati all'Expo? Soprattutto i più conosciuti siciliani e i più ben visti dai russi hanno fatto molto furore i vini, gli oli e i dolci e nonché tutti i prodotti bio perché la nostra produzione per lo più è di prodotti bio. Grazie, Mimo. Ci è successo, c'è un stand siciliani e abbiamo compromettato molti bio prodotti, olivezza, vino e classici siciliani prodotti, e tutto è successo con molti sposti. Cosa avete ottenuto dall'Expo? Ci sono stati moltissimi contatti, tutti gli standisti sono stati veramente contenti della riuscita dell'evento e pensano di ritornare. Infatti hanno chiesto già all'amministrazione regionale, a Massimo Papa che era il rappresentante dello sprint Sicilia, qui proprio di voler tornare l'anno prossimo e già ci stiamo mettendo in moto. Cosa ne pensate di questo Expo World Food 2019? Molto riuscito, molto ben organizzato, ben sistemato, anche l'organizzazione del pre-Fiera è stata ben fatta, siamo soddisfatti. Все organizzano molto bene, anche l'organizzazione del pre-Fiera è stata ben fatta, siamo soddisfatti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.